Ma avete questa forza? Vorrei essere lì. È il cuore preoccupato del Papa a parlare ai cristiani irachieni in un video messaggio portato nel paese del Golfo dal cardinale Filippo Barbaren, arcivescovo di Lione. Francesco parla dei dolori delle mamme e dei bambini cacciati dalle loro terre e delle ferite degli anziani e delle tante violenze subite. Il Papa ricorda anche la sofferenza degli ghiaziti, che come i cristiani patiscono per mano di un gruppo estremista e fondamentalista. Riferandosi a Santa Teresa del Bambin Gesù, che parlava della Chiesa come di una canna che non si spezza nonostante le intemperie, Francesco dice ai cristiani irachieni di non piegarsi al dolore, di continuare a testimoniare la propria fede, sostenuti in questo compito dalla preghiera del Papa e di tutta la comunità cristiana, perché, afferma, la vostra resistenza è martirio, ruggiada, che feconda. Prego lo Spirito che fa nuove tutte le cose, di donare a ciascuno di voi forza e resistenza. È un dono dello Spirito Santo. E insieme chiedo con forza, come già ha fatto in Turchia, una maggiore convergenza internazionale, volta a risolvere i conflitti che insanguino le vostre terre di origine, a contrastare le altre cause che spingono le persone a lasciare la loro patria e a promuovere le condizioni perché possano rimanere o ritornare. Io vi auguro che voi ritornate, che voi potrete ritornare.